Facciamo un'ipotesi. Non c'è la vita dopo la morte. Muore il corpo, finito tutto. Buio, eterno. Di fronte a una situazione scientificamente provata di questo tipo, è giusto e lecito la legge della giungla. Vinca il più forte, perché se ho solo questa vita a disposizione, siccome la vita, soprattutto ciò che ci piace, è il lato del godimento, quindi è giustificato che io cerchi di strappare alla vita il massimo godimento. E quindi investo tutto e schiaccio chiunque si frapponga fra me e il mio godimento. Punto uno. Secondo punto. Dopo la vita fisica c'è la vita dello spirito, dove delle leggi, chiamiamole divine, mi sanzionano in ragione del livello etico della mia vita vissuta. Le cose cambiano parecchio, perché se c'è la legge della giungla e dopo il nulla finisce tutto, me la sono goduta, ciao, arrivederci, è stato bello. Ma se non è così, e dopo la morte del corpo fisico c'è l'eternità, e molto tempo a disposizione, dove queste leggi mi sanzionano pesantemente in ragione del male che ho arrecato agli altri, ecco che le cose cambiano radicalmente. Quindi il primo progetto di vita che andrebbe bene in quel caso di annullamento dopo la morte si rivela fallimentare nel caso che c'è l'eternità. E fallire la vita non è bello. E nonostante questo, amici, noi, noi società civile, non noi qui in sala, progettiamo la nostra vita in funzione di qualcosa di non provato. È un tiro di dadi, ci può andar bene o ci può andar male. Quindi chi è ateo e agnostico dice spero che non ci sia nulla dopo la vita perché siccome ne ho combinato qualcuna è meglio che sia così. Ma se non è così sono dolori. Quindi nonostante la straordinaria importanza di avere questa risposta non ce l'abbiamo e noi programmiamo tutta la nostra vita alla fine se siamo onesti con noi stessi programmiamo tutta la nostra vita fino a che morte non ci separi da questo mondo per il corpo pochissime persone finanziano la propria crescita ed evoluzione spirituale perché la maggior parte di noi si sente di essere il corpo sono vecchio no il mio corpo sta invecchiando io in quanto spirito eterno non posso invecchiare sono eterno quando fosse trascorso tutto il tempo dell'universo concepibile non è ancora passato un secondo d'eternità quindi di fronte a questi parametri amici il nostro mondo importante quotidiano va un po' in crisi perché sono discorsi importanti che purtroppo non ci fa mai nessuno o quasi mai a volte manco negli ambiti dove invece questi discorsi andrebbero fatti quindi queste civiltà conoscono queste risposte e i loro progetti di contatto oltre ai loro progetti di vita sono basati su queste conoscenze perché loro dicono tutto il mondo fenomenico tutte le leggi fisiche che la vostra scienza studia discendono dalle leggi dello spirito che sono leggi supreme di tenore estremamente più elevato della legge di gravità della forza elettronucleare debole quella forte l'elettromagnetismo e così via discende tutto dal mondo di queste leggi che noi non conosciamo non le conosciamo ma le viviamo perché queste leggi sono quelle che ci fanno nascere ci fanno crescere ci fanno invecchiare ci fanno morire e ci fanno rinascere l'uomo è governato da leggi ma non le conosce quindi un essere che è governato da leggi ma non le conosce è come un folle che si compra un'automobile e vuole andare da Catania a Milano ma non sa guidare e non conosce il codice della strada cioè non arriverà mai farà incidenti in continuazione finché non morirà a causa di questi incidenti ecco perché la vita della società del pianeta Terra è uno spaventoso incidente continuo fame guerre distruzione corruzione mala politica mala sanità eccetera 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 perché l'uomo di questo mondo ancora non conosce queste leggi non le conosciamo siamo vaghiamo nel mondo come un branco di pazzi ognuno si fa la sua legge ognuno si fa il suo destino non può essere così se ci sono leggi che governano una cosa semplicissima come la caduta di un bicchiere questo fatto semplicissimo è descrivibile da una formula matematica caduta di un grave leggi di gravità quindi se c'è una legge che regola la caduta di un bicchiere dico io a maggior ragione ci devono essere leggi che governano l'esistenza dell'essere più complesso che esista sul pianeta Terra che è l'essere umano tra l'altro piccolo particolare l'unico che dice io sono non c'è nessun altro essere sul nostro pianeta che dice io sono manco il nostro gatto o il nostro cane chiamiamo tantissimo non dicono io sono lo diciamo solo noi ma questo essere che dice io sono è un perfetto sconosciuto a se stesso se noi ci mettiamo davanti a uno specchio e ci guardiamo diciamo ma tu chi sei e non è che io tiro fuori la carta d'identità e me lo dico al di là del nome che è stato registrato all'anagrafe io non lo so chi sono non so da dove vengo né tantomeno so dove vado ho deciso di andare da qualche parte ma non so se sto andando giusto e siccome spesso e volentieri soffriamo dove abbiamo deciso di andare sbagliamo nell'andare perché finiamo per soffrire magari ci scegliamo un partner marito o moglie perché vorremmo essere felici delirio vogliamo un bambino ah che bello voglio avere un bambino voglio essere genitore poi drogato delinquente ammalato fallimento cos'è che regola tutto questo il caso? non lo sappiamo perlomeno mettiamoci un punto interrogativo queste civiltà dicono il caso non esiste esiste la causa tutta la vita degli esseri intelligenti e non intelligenti è regolata da leggi supreme che funzionano secondo la causa e l'effetto ad ogni azione corrisponde una reazione questo amici in termini scientifici vuol dire che l'universo è un sistema senziente super intelligente che legge il tenore etico delle nostre azioni e reagisce io attraverso l'azione suscito nella creazione una reazione che noi chiamiamo realtà quotidiana a volte ci piace spesso no ma com'è che l'ho fatta io la scelta dopo quello che raccolgo non va bene perché sono quello che guida ma va contro mano fa l'incidente ma io volevo viaggiare tranquillo perché quello mi viene addosso perché stai andando contro mano o chiamato Autore dei sovrapposti